Ola amici, parliamo oggi di una questione di pseudomaterna che è una ipotesi che è contesa quando un requerente della cittadania italiana può chiedere la cittadania sia per la via materna sia per la via amministrativa paterna. Un esempio può essere quando è nata d'ante causa una moglie che nasce in Italia per paesi italiani migrò nel Brasile e si casò con un Brasileiro che può essere figlio di italiani o può essere anche nascito in Italia e migrato nel Brasile. Nessi casi il giudice può contestare la falta di interesse in agire, cioè può contestare che il requerente può solicitare la cittadania anche per un antenato italiano, italiano, o se già ho esposto dalla nostra tante causa che era italiano l, descendente di italiani e portanto se già che nasce in Italia che nasce nel Brasile, la cittadania potrebbe essere solicitata anche per lui. Portanto la questione da pseudo materna sta relazionata al problema di interesse in agire, perché se il giudice verifica che il requerente potrebbe solicitare la cittadania anche per la via administrativa può contestare che non ha interesse in agire. Portanto io consiglio eseguire questa strategia, o se già, anche se siamo a suizare un processo per la via materna per la tante causa italiana nascita in Italia e migrata nel Brasile. Nessi faremo anche il pedito di agendamento per il programma, o se già, per l'antenato che sia il ragazzo, in generale, il ragazzo dell'italiano che, come ho detto, può essere nascita in Italia anche, o può essere nascita nel Brasile, ma per paesi italiani. Siamo facendo, portanto, due cose insieme. Una solo per la linea materna e un pedito di agendamento seguendo la linea masculina, portanto per la via administrativa. Precisa solamente conoscere i dati italiani, nome e sobrenome, fare il pedito di agendamento e fare l'assonso, l'assonso tribunale competente, annessando, anche, la prova che il requerente fa il suo agendamento per la linea paterna. Portanto, abbiamo una dupla petizione, un duplo oggetto da petizione. Da un lato, la discendenza materna è, portanto, una simplessa causa materna. Por un altro lato, un processo di via paterna, cuo contenuto è o interesse in agire, perché noi affermiamo che, anche che il requerente ha presentato il pedito judicial per la linea materna, di qualche forma dimostrano che la linea administrativa non potrebbe essere accompagnata per il problema che noi conosciamo dalla lunga fila d'espera dei consulati italiani, o per altri consulati, come Rio de Janeiro, come Curitiba, come altri esempi, il problema può essere la modalità di agendamento che non è disponibilizzata in forma facile per per i requerenti decendenti italiani. Ho spero di aver esclareciato bene e che ho esclareciato la forma in cui noi affrontiamo il problema della pseudomaterna per i nostri clienti. Un abrazo! Grazie a tutti!